Vediamo un po' di che morte morire Allora, turnazioni... Ci posso stanno? Non so nemici chi sono Ah, sono due qua Allora, 178.000 def Beh, 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 non male Not bad Il problema è, beh, io ho DR con coso Naturalmente devo usare l'item subito Se no ci faccio una brutta fine E spero che Godengs stanni Spero Whisbust Spero 329.000 def Qualcosina dovrebbe tankare, no? Va bene Va benissimo GG, GG Guarda, la sua nuvola speedy What up? Incredibile E come boss stanno il padre E il vecchio Il padre del padre Lo zio Vabbè, questo ci fa il sollevico Ah, bella Stato Academy Domani arrivo con 600 Già, aspetta di arrivare 300 Così parto con te Dalle 600 Ma fai come ti pare Fai come Più ti aggrada Mamme, che tristezze Ah, ma l'ho stannato Chi l'ho stannato? Scusa Nooo Mi ha fatto dello stanno Prima ancora di lanciare la special Incribile Io già avevo visto che era stannato Che cazzo Ah, quei bug Ah, quei bug Questa era spoiler Senza ottono Vabbè, sì, ottono è da merda C'avevo vis attivo Guarda che il Goku full Che bello Goku full Ha un suo perché Quello giusto al mio Goku Fa 6 milioni e mezzo Più a di 7 milioni Di un PC anche da BD free È normale Ma da BD free Si comporta egregiamente Da BD food ti carico Quei 3-4 milioni Madonna, zi che l'ha Giusto quei 3-4 milioni Più 5 Poi dipende dalle orbe Che prende, naturalmente Il segreto sta lì Però di base Quelli sui danni Vabbè, è la prima andata Mi aspettavo Siamo ancora full vita Eh, so A parte abbiamo il team tipo full Eccoli, Goten e Trunks Io loro stavo aspettando E le bestie Ah, qua abbiamo tre nemiche Stiamo proprio a shottare lui Gotenno e Trunks Su... Facciamoci C'è l'ho Facciamo vedere che li utilizziamo Senza 8-1 era collegata Ok, ok Attenzione, ci prova Non va Bartok Tech Biffi con Tora Stai sui 7-8 milioni Credo, correggimi Se sbaglio Boh Dovrei provarlo Io l'ho provato full Sì, 7-8 milioni Con full passiva attiva Perché all'inizio Quando lo carica? 3-4 milioni Il primo turno Non carica nulla Anzi Lo cura Vabbè, abbastanza Vabbè, pure stannato Ah, no Forse prima Nonno con Ha stannato con Kid Adesso ce l'ho pensato Minchia, 8 milioni Ma Non fanno così Vomitare Me li ricordavo peggio Perché dai Non è realezza Però Ok, quello è stannato Dobbiamo Shotta lui Guardi attivo E facciamo così Mestranamente È arrivato a Biffu Con Tora 12 milioni Vabbè, ma Bardak Con Tora Li fai Dagni Direi anche il Minio Però Davvero da Biffu Il problema È anche la difesa Che Vediamo Molti problemi Con il PG Però Ci accontidiamo Di quello che ci hanno dato Comunque Se uno lo ha Non è che lo butta via Se lo guarda Perché skip Non ha utilità Perché skip Perché non skip E poi è la domanda Che dovresti fare Doppio strano Così dopo Non devo usare item Niente stun Niente stun Perfetto Oh, addino Un cazzo E vai Non voglio usare item Probabilmente rimpiangerò Questa scelta Questa scelta divina Comunque Sto Tocca Nevent Veramente Una caponata Una caponata Olè Special Oh, 100.000 Minchia Se l'è tankata di Cristo Per non essere colore neutro E Mangati ha fatto post special Ma faccio Cazzo Ma sto Goku Veramente È una bestia di satana Vedi di freddo Non c'è manco tutti Linker 10 Da 5 Senwar Bravo, bravo Goku Bravo, pampino Bravo Mi sei piaciuto Credo che c'era Goan Kid Che lo buffava Ma Era post super special Bravo, bravo Bravo a papà Bravo Mi sei piaciuto E Qua Che favo Sciottiamo il JGC tech Sì O almeno ci proviamo Facciamo così Item sempre qua Tanto è andato Ecco Sugli orbi Invece A cazzo di car Occendo e passa Più, più, più Se ho fatto Nascimax Se non trovo Maire Mi incazzo E Arrivi al garantito Lo trovi per forza Io papà Dopo 3 anni Che è andato A prendere il latte Non torna Mi devo preoccupare No, no Quello l'ha trovato Scaduto Per questo Aspetta un altro poco Quello lo fa stesso lui Capito Produce direttamente Dalle sue mammelle Da qua Goku Poco è incazzato Con la vita 3 special Si è mangiato Tutta la ruta Distrutto Attenzione Ci prova Oddio Ma L'animazione Di Cristo Era Incredibile Questo docking event È finito Andato in bar Ho utilizzato gli item Proprio capito Per Fa vedere Che era un minimo difficile Se ce la fai L'estate Buon per te E pure il dodge Incredibile Vabbè È finito Quanto c'ho di def? 3,63 Ed è il mio ability free Quindi Tanta robetta Sto a farmare Pietra e viola Per gli equip Io gli equip Già stanno lì Aspettano solo il pg A me Finito Mamma mia Questa era l'extreme Tu immagini La road normale La road normale Durava una special pg Praticamente Distrutta